Tre giorni dedicati alla romanità e alla battaglia del metauro, le cui sorti hanno cambiato inevitabilmente il corso della storia. Se Asdrubale non fosse stato sconfitto, l'epopea romana sarebbe stata diversa e forse Fano non sarebbe la città che conosciamo. Ma anche il rapporto della città della fortuna con Augusto e Vitruvio, le cui tracce e il cui passaggio sono visibili a turisti e locali attraverso eventi e visite guidate che permettono di vedere siti e domus romane presenti nel sottosuolo fanese. Noi abbiamo iniziato ovviamente con una bellissima mostra perfetto virtuale del Centro Studi Vitruviani che sta facendo il Giro d'Italia in varie località e anche in vari presidi di Expo. Sappiamo bene tutti gli studi che si stanno facendo col Georadar, vogliamo valorizzare il museo archeologico e adesso però in piena stagione turistica ci sono tre giornate di accoglienza. L'archeoclub Fano cura le due conversazioni sui due illustri personaggi che ricorrono nelle cronache fanesi utilizzando oltre ai propri relatori anche la capacità divulgativa e la conoscenza tecnica della colonia Iula Fanestris. Allora mercoledì e venerdì nell'ex chiostro di Sant'Agostino ci sarà la conversazione su Augusto e Vitruvio e la città di Fano, una conversazione ad immagini e poi seguirà la visita agli scavi della cosiddetta Basilica di Vitruvio nel sotterraneo proprio di Sant'Agostino. Mercoledì e venerdì alle ore 21 e 15 mentre invece nell'ex chiostro di Santa Teresa giovedì alle ore 21 e 15 la conferenza su la battaglia del Metavoro ha più voci. Certo rimane l'amaro in bocca per quello che ha sempre rappresentato per tutti l'evento di Romanità per eccellenza, quella tanto desiderata Fano dei Cesari annunciata e poi disdetta per problemi di bilancio ma anche per scelta artistica sì perché relegare il tutto ad una giornata sola che sarebbe costata alle casse del comune oltre 50 mila euro non sembrava all'amministrazione una scelta eticamente corretta. Si era partiti per la verità con il preventivo di una manifestazione che doveva durare sette giorni, coinvolgeva tutta la città, i turisti, l'impegno economico era attorno ai 137 mila euro più IVA e quindi una cifra consistente ma questa l'avevamo preventivata e quindi si era partiti bene tuttavia sono arrivati i tagli al bilancio, i tagli imponenti 1 milione e 700 mila euro in meno per i servizi sociali, l'amministrazione ha dovuto rendersi conto che bisognava fare economia per non far mancare i servizi alla persona e devo dire con senso di responsabilità anche i nostri collaboratori e le associazioni che si seguono impegnate per fare quella perizia hanno detto beh allora bisogna aspettare perché insomma prima vengono altre cose.